Camera media, finestra interna, sempre equipaggiata della sua aria condizionata, il suo frigorifero, la sua ventola e il suo televisore. Sempre con il bagno bello grande, con il box doccia. Molto adatta per chi vuole dormire e vuole silenzio assoluto. C'è la sua cassetta di sicurezza. Qui di notte non vola una mosca. Già abbastanza silenziosa questa strada perché il traffico è quasi zero. Ma questa essendo interna non ci sono problemi di rumore. Grazie. 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 Grazie.